Un grandissimo attrattore, siamo partiti nel 2004 con un investimento di 7 milioni e mezzo sul castello di San Giusto, ascensore, piazzale, tetti, controtetti. Oggi abbiamo il grande attrattore, questo museo multimediale, grazie ad Alinari diventerà qualcosa di storinario. 250 mila castello di Luino visitatori, 1 milione e 2 castello di Miramare, 50 mila castello di San Giusto. Sono un momento che raddoppiaremo in breve questa città. Un grandissimo attrattore, un grandissimo attrattore, un grandissimo attrattore, un grandissimo attrattore.